La violenza è degli esseri umani, non di Dio. Dio ci ha dato la vita e sono gli uomini che devono sapere come utilizzare questa libertà. Il essere umano ha di sapere come utilizzare questa libertà. Però molte volte si uccide in nome di Dio. Si commette ingiustizia in nome di Dio. E in nome di Dio si commettono omicidi, si uccide in nome di Dio. Ma questo non ha nulla a che vedere con il senso della vita che ci ha dato Dio. Il titolo del libro ha a che vedere con la mia esperienza del carcere. Io sono stato in un centro di tortura, sono stato rinchiuso in un buco che era praticamente, veniva chiamato tubo. E in questo tubo qualcuno che era stato detenuto prima di me, una prigioniera o un prigioniero, non lo so, aveva scritto con il proprio sangue Dio non uccide e questo è un atto profondo di fede. che non... che me quedò grabato per sempre. Dio non uccide Dio non uccide Dio non uccide Grazie a tutti.